Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti Oggi andremo a trattare come circuito il circuito chiamato Slovakia Ring Questo è l'unico circuito della Slovakia che tratteremo in questa serie Questa è la mappa del circuito L'autodromo Slovakia Ring è un autodromo situato in Slovakia A circa 30 km di distanza dall'aeroporto di Bratislava Venne costruito dal 2008 e il 2009 Sam Beard ha stabilito l'attuale record del circuito il 5 settembre 2012 Durante una sessione del test di Formula Renault 3.5 Series Segno 1 minuto e 41 secondi 610 Con la sua Dallara T12 preparata dal team ISR Racing Il circuito Il tracciato è cateto da un lungo rettilineo dei box seguito da una lunga successione di curve di grande varietà Talvolta inframmezzate da due rettilinee Il primo tratto è più veloce di qua in quanto a rettifilo principale se ne raggiungono altri due più corti Intervallati da due veloci curvoni a destra Il tratto centrale è più lento per via di curve più numerose e strette Che lasciano poi spazio al secondo rettilineo Per lunghezza perché precede l'ultimo lungo curvone a destra di oltre 180 gradi Sono presenti in varie bretelle per poter usare l'autodromo in varie configurazioni La pista è pressocchi e piatta Fatta eccezione per un piccolo ma aspro rialzo dopo la prima curva Che rende cieco l'ingresso della seconda Il pilota neozelandese Matt Alliday sostenne che la Porsche a motore posteriore Faticavano a percorrere i curvoni a lungo raggio dello Slovakia Ring A causa del minore carico aerodinamico all'anteriore rispetto alle altre vetture Eventi principali GT3 European Championship Il 21 agosto 2011 la pista ospitò il quinto round del GT3 European Championship Vincitore delle due gare di 29 giri furono Dominic Bauman, Bryce Mobosi E Philippe Jacue, Mike Parisi Entranno nella guia di Mercedes-Benz SLS AMG WTCC Il 6 febbraio 2012 si annunciò che lo Slovakia Ring aveva rimpiazzato la gara Argentina nel calendario della WTCC 2012 L'evento ebbe luogo il 29 aprile 2012 con la titola di Gabriele Tarquini con una Seat Leon in gara 1 E di Robert Haaf con una Chevrolet Cruz in gara 2 GT1 World Championship Il 10 giugno 2012 il tracciato ospitò il quarto round del GT1 World Championship FIM e WC A partire dal 2018 la Slovakia Ring fa parte del calendario del campionato mondiale Endurance di motociclismo E questo è stato il circuito Slovakia Ring Se il video vi è piaciuto Un attimo Se il video vi è piaciuto vi lasciate un mi piace Per questo video è tutto E noi ci vediamo alla prossima Ciao